Un pazzesco vecchio manicomio abbandonato su un lotto di oltre 36 ettari. Un pazzesco vecchio manicomio su un lotto abbandonato di oltre 36 ettari. Un pazzesco manicomio nato su un lotto di oltre 37. E passeremo lì tutta la notte, dal tramonto al remonti. Sarò sincero con voi, io non credo al 100% in queste sfere. Questa però mi ha colpito perché ha una forma molto strana. Aspetta un attimo. Wow! Vuoi dire che qui sono morte più di 10.000? Wow! Sì! 10.000. Wow! 00.000. Wow! Ci consigli di indossare delle maschere? Sì! Eh? Sì, questo! Sì? Sì! Questo, giusto? Sì! Eh? Sì! Per questo siamo qui. Coloro che ricevevano delle cure spesso erano soggetti a terapie barbariche. Barbaria. 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 In questo preciso momento, il registratore cattura la voce di uno spirito. Bionda, 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 io ti compro, bebè. Non sono me, sono Obama. Ho appena visto passare qualcosa. Riprendi. Obitorio. Dice, dice obitorio. Eh? Dice obitorio. Eh? Questa stanza è una stanza. Se osservate attentamente, si vede una sfera di luce che colpisce Nick sulla parte bassa della schiena. Aduken! Qualcosa mi ha colpito. È una cosa seria. Molto seria. Aaron e io sentiamo una voce femminile che canta. Conto fino a tre. Pronta? Uno, due, uno, tre. Due, uno, due. Era un cane? Ho sentito un cane che guaiva. Fa davvero tanto, 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 tanto freddo. C'è qualcosa qui con me, la sento. Mi faccio una sega. Mi faccio una sega. Sembra un rumore di sega. Porca... Arroda, no! No, 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 no! Carri, 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 carri... Ca-ri, carri, 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 carri... Ca-ri, carri, 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 carri... Fa male. Sembra si stia gonfiando. Il rilevatore ha registrato dei picchi, indicando la presenza di picchi. Colle e arrivato la robino. Arroda col sino dei morbici, morbicide. Tu non mi sembra naturale